Una società di capitali che opera nel settore della fabbricazione di prodotti tesili a Macomera è risultata evasore totale nell'anno fiscale 2012. La scoperta è stata fatta dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale di Nuoro nel corso di un'operazione che mirava il contrasto dell'evasione fiscale. Secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, la società avrebbe sottratto a tassazione oltre 2 milioni di euro, avrebbe commesso violazioni all'IVA per oltre 200 mila euro e operato ritenute poi non versate per oltre 100 mila euro. La scoperta è stata fatta nel corso di approfonditi controlli da parte dei militari che hanno permesso di appurare l'ommessa presentazione della dichiarazione obbligatoria ai fini dei redditi dell'IVA e dell'IRAP. La società inoltre avrebbe omesso di versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. La complessa attività di ricostruzione della posizione fiscale della società è stata complicata, spiega una nota della Guardia di Finanza, dall'assenza di un'attendibile documentazione contabile fiscale. L'operazione, spiega una nota, va inserita nel più ampio quadro di intensificazione dell'attività di polizia economico-finanziaria disposta dal comando provinciale di Nuoro a contrasto del fenomeno del sommerso d'azienda, dannoso per le libertà economiche dei cittadini, delle imprese e dei professionisti onesti e condizione indispensabile per il raggiungimento dell'equità sociale.